Perché la stella di Rosetta è importante? Senza la stella di Rosetta i geoglifici sarebbero stati indecifrati, sarebbero rimasti indecifrati dei disegni senza significato, perché i romani non conoscevano il significato dei geoglifici. Dopo la vittoria di Ottaviano su Antonio e Clopatra, con la battaglia di Azio del 31 a.C., il Regno Egiziano diventa una provincia dell'Impero Romano. Si perde il ricordo di quella scrittura tramandata da padre in figlio, difficilmente decifrabile. che riesce attraverso un documento riportato in tre lingue diverse, demotico, greco antico e geoglifico, la stella di Rosetta, a decifrare nell'Ottocento la scrittura geoglifica, riportando la storia egiziana a conoscenza di tutti i popoli. Ciao al prossimo video!